la conduttrice barbara d'urso sul suo profilo instagram posta molte storie ultimamente la donna in vacanza con i suoi amici insieme hanno realizzato un video dove i protagonisti battono le mani con il brano dog day are over e corrono verso il tramonto la conduttrice sembra molto serena nonostante è stata esclusa dal suo pomeriggio 5 e si diverte come non mai e solo facciata